Ciao ragazzi, benvenuti in questo prossimo video, oggi vi parlerò della build 5 di Minecraft 0.13.0 Si dice che questa sarà l'ultima build di questa versione e poi uscirà la 0.13.1 Allora, io sono stato a disposizione di vostro la changelog Di cui sono cose tutte scritte a caso Io cercherò di tradurre quel che dice perché davvero sono cose arabe Orologi redstone ora un po' più lento e tenuti in sincronia senza porte Dai Allora, in pratica secondo me vorrà dire che la redstone adesso si attiva più lentamente Ed è tenuta in sincronia, diciamo che è tenuta vicina senza quando ci stanno le porte avanti Poi la polvere della redstone si allinea correttamente quando si mette in posizione verticale Poi le torce di redstone Non mantengono Cioè, ma che significa? Torce redstone non mantengono il loro stato lungo più Ecco qua, ve l'ho detta E poi sono stati modificati alcuni pixel sulle nuove cose che sono state aggiunte in questa In questa In questa versione E poi, sì certo Ai utenti di televisori fuego Possono ora guardare intorno al controller Secondo me Vorrà dire che adesso Il La gente che sta in multiplayer Può vedere intorno al controller Che poi non l'ho mai capito Il senso proprio di questo mondo No, il senso del mondo Il senso di queste traduzioni arabe Proprio Non ce la posso fare Guardate Vi volevo far vedere che la skyblock c'è ancora Solo che la sto un po' trascurando Credo che la inizierò Cioè, quella che la continuerò Fra Qualche giorno Perché sinceramente mi scoccio di fare le mappe Comunque, niente Vi volevo parlare Che la skyblock è quindi ancora attiva Credo che oggi invece Registrerò Un video su Maddex Il secondo episodio E vabbè Niente Non posso ancora entrare nel server Perché i ragazzi sono tutti buggati Verso la fine della morte Guarda E questi qui Sono i server che tengo Guardate Questo qui SG199 Serve per quando Per quando È pieno SG200 Beh, questo qui È un server pvp Non so che Non so se funziona ancora Infatti no Poi Shigel Funzionale Voglio dire questo Vado a mettere un attimo Una lingua italiana Italiano Che è successo? No, francese, italiano Allora ragazzi Allora ragazzi Si era buggato un po' No un po' Si è buggato Comunque guardate ragazzi Quando io metto un server Dice skin Non valida Io vorrei sapere Che cacchio Significa Quindi per favore Ditemelo nei commenti Se lo sapete Nel caso non lo sapete Pazienza Cercherò di scoprirlo E vabbè Questo è tutto Vabbè ragazzi Il video si conclude qua Spera vi sia piaciuto E quindi Noi ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi